Siamo venuti in Emilia Romagna, in uno dei tratti dove il fiume Po, una delle risorse ambientali più importanti del paese, sarà riqualificato grazie all'utilizzo dei fondi europei per affrontare le conseguenze della crisi da Covid-19, un intervento richiesto dal VVF Italia e da Nepla atteso da anni, in linea con la strategia europea per la biodiversità, la cui importanza è cruciale non solo per l'economia di una delle aree più industrializzate d'Italia, ma anche per l'ecosistema. I cambiamenti climatici aumentano questi dislivelli che ci sono tra i momenti estivi e i momenti autunnali di precipitazioni e quindi aumentano il rischio idraulico, aumentano tutti i disagi lungo il fiume, quindi ricreare questa fascia di fluviale lungo tutto il corso d'acqua, quindi questa grossa spugna che tende a favorire la raccolta d'acqua durante le precipitazioni e a ridarla lentamente e progressivamente durante il resto dell'anno, tende ad attenuare e a ripristinare questo ciclo idrogeologico che è più naturale, quindi a ridurre i rischi dovuti anche ai cambiamenti climatici. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rinaturazione figura la riduzione dei pannelli della navigazione per dare più spazio al fiume. Stiamo attraversando la parte principale del fiume, almeno quella interessata dalla proposta di rinaturazione, il cui obiettivo è quello di rimuovere queste barriere naturali di sabbia con lo scopo di far entrare l'acqua che qui non arrivava da oltre 30 anni. Meuccio Berselli dell'autorità di bacino distrettuale ci spiega come avviene l'intervento. Abbassiamo un pezzo di vegetazione, spostiamo un pezzo di terreno, lo togliamo proprio in modo che il fiume dall'alveo principale possa più volte all'anno entrare in questa zona quando il livello idrometrico lo consente e riempire delle aree che abbiamo già pianificato in cui in queste aree c'è come in questo caso una grandissima biodiversità. Ma a beneficiare del progetto saranno soprattutto le comunità locali la cui economia dipende strettamente dal fiume come nel caso di Jennifer Bacchie della sua attività che si occupa di turismo e di servizi nautici. Ci aspettiamo di almeno raddoppiare il nostro numero di visitatori, quindi di fare all'incirca 1.600-2.000 persone visitatori all'anno che in un paese così piccolo come il nostro è un'esagerazione perché vuol dire che muoviamo quasi metà del paese e con questo tutte le attività economiche a noi legate e da qui aumenterà anche il ventaglio delle nostre proposte. Più ci sono persone che arrivano più noi aumenteremo i nostri servizi e da qui aumenterà anche il fatturato. Quindi noi ci aspettiamo di raddoppiare attualmente il volume d'affari. I tempi però si preannunciano lunghi. La fine dei lavori non è prevista prima del 2026 quando si conclude l'erogazione dei fondi che come d'accordi avviene in base al raggiungimento degli obiettivi del recovery plan italiano. Giorgia Orlandi, Euronews, Gualtieri, Emilia Romagna.